Domenica scorsa ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia del Piacenza Calcio, ora punta a trovare sempre più spazio. Hamza El Kawakibi è uno dei volti nuovi del Piacenza, uno dei giovani su cui mister Franzini punta per plasmare la squadra di quest'anno, che si sta confermando una vera mazza grandi, come ha certificato la vittoria per 2-1 contro il Vicenza. È stata una bella soddisfazione per tutto il gruppo e anche per il modo in cui è arrivata, perché diciamo che all'ultimo minuto è sempre più bello. Però avevamo la sensazione di poterla riprendere alla grande, perché c'è stato un piccolo episodio che ci ha sfavoriti, ma eravamo convinti di riprenderla e siamo stati molto bravi a stare concentrati e avere la convinzione di riuscire a riprenderla. Infatti alla fine è andata bene, siamo tutti molto contenti. Come ti sei trovato alla tua premia da titolare? Bene, molto bene, perché i compagni e tutto lo staff mi hanno dato grande fiducia, quindi sono stato molto tranquillo, ho fatto la mia partita e sono stato aiutato molto dai miei compagni più grandi e sono stato abbastanza soddisfatto della prestazione. Di che cosa ti ha convinto a venire qui a Piacenza? Che cosa ti colpisce di più di questa società? Ma diciamo che venire qui a Piacenza è un grande orgoglio, perché la piazza è importante, è sempre stata una grande società e quindi non ho esitato a decidere di venire qua. È una grande possibilità per me e quindi sono molto felice di essere qua e di aiutare la squadra. Grazie a tutti.